Il sindaco di Vittorio Moscate e il primo cittadino di Modica, Abate, in una lettera indirizzata dal direttore generale dell'ASP di Ragusa, manifestano la loro contrarietà al piano di riorganizzazione dei servizi sanitari nel comprensorio. Apprendiamo con stupore, scrivono Moscate e Abate, che la direzione generale dell'ASP di Ragusa pare abbia disposto alla rimodulazione di qualche reparto nel nostro comune dell'ex provincia, senza avviare alcuna forma di concertazione preventiva con la conferenza dei sindaci che, a quanto risulta, non ha fornito alcun parere alla pianificazione in questione. Pertanto, proseguono i due sindaci blei, intendiamo manifestare a nome nostro e delle amministrazioni comunali che rappresentiamo la ferma contrarietà al piano di riorganizzazione dei servizi sanitari, in particolare a Modica e Vittoria, con prove tecniche di ridimensionamento alla struttura complessa di chirurgia del Maggiore e del Guzzardi. E, qualora risultasse vera la disposizione in merito, concludono Moscate e Abate, chiediamo l'immediata arrevoca del provvedimento. In caso contrario, avvieremo ogni forma di protesta mirata al rispetto delle istituzioni. Grazie. 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 Grazie.